Io penso che sia estremamente necessario in un momento difficile come questo ricordare la resistenza. Siamo al 75esimo anniversario della liberazione dal nazifascismo e la lotta di liberazione in qualche modo ha in sé un indice segreto, per dirla con Benjamin, di suggerimenti, di possibili strade da percorrere in generale nei momenti di difficoltà. Sicuramente la resistenza italiana ci ha insegnato che l'unità la si può trovare, così è stato fatto dalle tante anime politiche che hanno affollato la lotta di liberazione, che hanno dato vita a una nutrita minoranza armata che ha dato una guerra senza quartiere al nazifascismo negli ultimi 20 mesi di guerra e questo sicuramente è un grande insegnamento e in qualche modo ha una sua prepotente attualità. Ricordiamolo, dai comunisti agli azionisti, dai socialisti ai cattolici, passando per i militari, per gli anarchici, appunto le anime della resistenza sono molte e sono composite, ma non è solo una questione di anime politiche, ci sono anche delle anime per così dire sociali che hanno reso la resistenza italiana di molti colori. Ovviamente innanzitutto le donne, sono almeno 35.000 le donne in armi e svariate altre decine di migliaia che in diverse altre forme hanno partecipato alla lotta. Poi penso agli stranieri, presenti ovunque in tutte le regioni e non solo gli slavi, i russi e gli ideati, ma anche i disertori della Wehrmacht. Un episodio, uno spaccato della nostra resistenza che è troppo spesso dimenticato, comunque che è stato largamente rimosso. E poi c'è sicuramente il tema delle generazioni. Non dobbiamo dimenticare mai che si arriva alla guerra di liberazione, alla guerra civile, dopo vent'anni di fascismo, dopo tre anni di guerra fascista, con un paese di fatto reso servo di una feroce dittatura, nel quale però appunto già una nutrita minoranza si era strenuamente opposta nei vent'anni precedenti, pagando a carissimo prezzo la sua posizione. Penso all'esilio, alla clandestinità, alla galera, al confino, che appunto una parte della generazione dei vecchi militanti si trova ad avere come carta da spendere quando con l'occupazione nazista incomincia tutti gli effetti della resistenza. E in quel momento, con l'8 settembre, come ci ha insegnato il grande storico Claudio Pavone, che la generazione dei giovani invece imparò a disobbedire e imparò a rifiutare tutto un bagaglio di disvalori che il fascismo aveva trasmesso loro, loro che avevano conosciuto solo quel mondo lì, solo il ventennio fascista, e lo fece appunto grazie alla generazione dei vecchi. Anche in questo caso, come nel caso delle anime politiche, non fu un incontro sempre facile, fu anche faticoso questo confronto, ma fu enormemente virtuoso. L'eterogenità della resistenza fu un fenomeno assolutamente straordinario, appunto non solo un arcobaleno di anime politiche, ma anche una convergenza tra uomini e donne, tra giovani e meno giovani, tra italiani e stranieri, che ebbero in comune, credo una capacità trasversale di radicalità, di voler appunto risolvere i problemi alla radice, di voler provare almeno a farla finita con il fascismo per davvero dopo vent'anni di dittatura. Credo che questo sia un insegnamento, come dire, sempre attuale, ragion di più appunto in un momento di crisi, e che vada riesumata la forza morale soprattutto che ebbero queste donne e questi uomini del secolo scorso, per trovare appunto le energie per rifondare un paese.